Grandissimo colpo del Lecce, il Lecce mette a segno questo grande colpo sottovalutato da tutti, Cristovic, oggi sarà a Lecce per le visite mediche e speriamo che arrivi il nulla osta per la partita con la Lazio e comunque lui andrà in panchina, ma non è detto che possa entrare nel secondo tempo. 26 gol in 34 partite e più 5 assist, quest'anno 2 gol in 3 partite, nelle prime 3 partite del suo campionato. Grande colpo, grande Corvino, ricordiamo sempre che è arrivato anche Cabà, che è davvero un grande colpo al centrocampo. Piedi buoni, grande recuperatore di palloni, quest'anno Corvino e Trinchiera ci hanno regalato una grande squadra. Nella griglia della Gazzetta dello Sport siamo i penultimi, i secondi diciamo, come possibilità di retrocessione. Ma loro fanno queste classifiche perché le fanno in base ai nomi, io mi fido di Corvino e di Trinchiera. Forza Lecce e grande Corvino!